Ecco le immagini che non vorremmo commentare ma che purtroppo dobbiamo evidenziare. Questo è ciò che è successo al San Nicola sabato sera durante Bari Avellino, lancio di bombe e carta nel corso di tutto il primo tempo da parte di tifosi erpini, poi continue provocazioni e la conseguente reazione di tifosi del Bari. Non entriamo neanche nel merito di ciò che possa passare nella testa di questi teppisti, quello che invece va capito è il motivo per cui al San Nicola, stadio controllatissimo in alcuni settori, possono invece entrare addirittura delle bombe e carta non fischietti o coriandoli. Facendo l'esempio della porta numero 1, quella che dà l'accesso alla tribuna stampa e ai vari settori della Ovest, i controlli dei biglietti sono continui. C'è uno steward al primo cancello, poi delle deliziose hostess poco prima dell'ingresso principale a ricontrollare il tagliando. In seguito si inserisce il proprio biglietto nella fessura elettronica del tornello, all'uscita del quale c'è un altro steward a controllare. Infine, un altro collega all'ingresso della porta per un'ultima controllata. Il biglietto è nominativo, il documento si espone o quando si acquista il biglietto oppure quando si ritira l'accredito. Insomma, i vari controlli, seppur ripetitivi, fanno stare tranquilli coloro che si dirigono verso gli spalti. Poi però accade che nel settore ospiti entri di tutto, addirittura anche delle bombe. Gianluca Paparesta a fine gara ha promesso che i controlli verranno potenziati anche in quel settore, perché non è giusto che un tifoso che vuole soltanto assistere alla gara debba guardarsi alle spalle da chi porta allo stadio in mezzo arsenale. Solo così i papà potranno portare allo stadio figli e moglie. A prescindere dallo spettacolo sul campo, conta molto di più la tranquillità sugli spalti. Grazie. Grazie.